Come fare a rottamare le cartelle sattoriali? Per chiarire ogni perplessità nei giorni scorsi è stato organizzato presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore un convegno dal titolo Intervista d'Equitalia, la definizione agevolata dei carichi iscritti al ruolo. Abbiamo ritenuto importante riuscire a realizzare un evento su quella che è la rottamazione dei ruoli, la definizione agevolata che può favorire i contribuenti in modo tale da poter far sì che possano sgravare e risolvere quelle che sono le posizioni nei confronti di Equitalia. Diciamo che abbiamo piacere di aver definito l'evento Intervista d'Equitalia, proprio per la disponibilità che abbiamo del funzionario che cercherà di darci consigli su quella che sarà l'operatività reale dello strumento che ci viene messo a disposizione. Importanza strategica per il contribuente, le problematiche per noi consulenti e gli effetti sulle procedure nei confronti dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che dell'Inps e degli altri enti istituzionali. Questo è quello che stiamo cercando di fare in modo tale da creare quello che è un servizio effettivo per rendere il Paese Italia competitivo dal punto di vista imprenditoriale e dare questa chance alle imprese. I presenti hanno potuto dirimere i rispettivi dubbi interagendo con il responsabile della funzione dei servizi regionali ai contribuenti della Regione Campania, Emiliano Amodeo, nel corso del convegno, il primo di una serie di interessanti appuntamenti che rientrano nell'ambito della programmazione tracciata dal neopresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario del Tribunale di Nocere Inferiore, Giovanni D'Antonio. È uno dei primi incontri di tutta una serie di incontri con i nostri interlocutori principali. Oggi abbiamo ospite un funzionario regionale di Equitalia il quale ci illustrerà al meglio quello che è il problema della rottamazione dei ruoli. Fortunatamente è arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri per la proroga della stessa rottamazione al prossimo 21 aprile e pertanto avremo un altro po' più di tempo per andare a capire come meglio organizzarci e come meglio andare ad operare in tal senso.